Golfo di Policastro, Salerno, l'amministrazione comunale di Santa Marina, punta a garantire la continuità didattica e amministrativa dei due plessi, tra l'istituto comprensivo di Santa Marina Policastro Bussentino e l'istituto di Casaletto Spartano. L'amministrazione a guida del sindaco Giovanni Fortunato, intende presentare apposita richiesta alla regione Campania affinché venga confermato anche per l'anno scolastico 2025 e 2026 l'accorpamento in autonomia tra l'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Santa Marina Policastro Bussentino e l'istituto di Casaletto Spartano. Lo scopo è quello di garantire la continuità dell'attività didattica e amministrativa dei due plessi. Grazie.